La conquista del Palazzo alle mie spalle e in particolare del quinto piano al centro del dibattito a Paternò, ovvero le elezioni della prossima primavera che si terranno probabilmente il 29 maggio o la settimana dopo con un ballottaggio eventuale nei 15 giorni successivi. Ma cosa ne pensa la città? Siamo andati un po' in giro attorno al Palazzo Comunale di Zona Ardizona a Paternò per chiederlo alla gente. Le conosce i candidati a sindaco di Paternò? No, no, sono poco informata. Non l'ha sentito parlare? No, no, sono poco informata. Ci andrà a votare a giugno? Certo. No, 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 completamente. Ma ci andrà a votare a giugno? Sì, certo. Io penso che tutto questo regime non mi fa, non mi intusi albano. Le prossime elezioni secondo lei cambieranno qualcosa per Paternò? Non cambierà niente. Lei ci andrà a votare? Certo. Lei li conosce i candidati alla carica di sindaco di Paternò? No, no, li conosco. Sì, sì, li conosco. Che ne pensi? Non mi esprimo, non mi esprimo. Signora, li conosce i candidati sindaco? Qualcuno sì. Che ne pensi? Eh, non lo so, non è che li conosco bene. Andrò a votare, ancora devo pensare a chi votare. Ma cambia qualcosa con le prossime comunali? Speriamo di sì. Lei lo sa che si vota a Paternò? Certo, asce. Vabbè, non mi fa sbagliare a parlare. Ma che ne pensa di queste candidati? Male, 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 male. Ma ci andrà a votare a giugno? No, non ci vado. Perché? Non ci vado, signore, perché io ho un'attività. Quando io esco dell'attività, mi rompio il pede. Mi rompio io. L'altro giorno un'amica mia si è rotta il femore. L'altro giorno un'altra, signore, perché... Ma questo che c'è? Che cosa c'è? Perché ci sono stati tutti rotti. Eh, non giusto, non niente, ma scusate. Saranno in grado di risolvere i problemi? Ce ne sono quattro come sindaca, capito? No, quattro sono. Ci sono quattro sindaca che stanno lottando. Ma non lo so, penso che faranno un po' lottaggio, penso, che io, così. Ma pensa che si può risolvere un po' per Paternò? Ma speriamo che risolvano qualcosa, Paternò, capito? Lei li conosce ai candidati sindaco di Paternò? Solo a naso conosco. Gli altri non li ha sentiti? No, 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 non mi dedico alla politica. Ma ci andrà a votare? Certo, quello è il mio dovere, andare a votare. Però poi ai primi giorni mi regolo a chi io devo votare e a chi se lo merita.